Ad intervenire sulla situazione del Museo di Elea Velia riguardo il finanziamento destinato è anche il Comitato Civico per il Museo di Elea Velia che ha chiesto chiarimenti al Parco archeologico sostenendo il no alla musealizzazione. Caterina Cammarano, Presidente del Comitato Civico per il Museo di Velia. In questi giorni tante polemiche riguardanti appunto questo museo. Cosa da dire al riguardo? Innanzitutto il Comitato per la realizzazione del Museo di Velia continua a perseguire gli obiettivi che si è prefisso già dall'inizio e che sono quelli che come unica finalità sono quelli per la realizzazione del Museo Nazionale di Elea Velia. Chiaramente quando parliamo di museo nazionale non parliamo di un museo civico e nemmeno di un museo comunale. Ma parliamo di un museo nazionale che abbia dei parametri che possano farlo interagire con tutti i musei del mondo. Paradossalmente al momento negativo che stiamo vivendo in questo momento a causa della pandemia credo che sia un momento favorevole per la realizzazione del museo. Entrando nel dettaglio per quello che si sente in questi giorni riguardo il finanziamento per questa musealizzazione all'interno della galleria il Comitato ha già espresso le proprie perplessità a gennaio chiedendo dei chiarimenti al Parco archeologico e non ultimo abbiamo presentato un'istanza di richiesta di accesso agli altri per poter visualizzare quelle che sono le schede progettuali che sono state presentate. Chiaramente non siamo favorevoli a impiegare troppe risorse all'interno della galleria e tutto quello sul quale possiamo attenerci sono delle dichiarazioni rilasciate alla stamba che benché abbiano delle responsabilità su queste dichiarazioni noi possiamo dire che sicuramente non siamo contrari a una riqualificazione della galleria che oggi non sarebbe necessaria se ci fosse stata la corretta manutenzione quindi la nostra preoccupazione è quella che per la seconda volta rischiamo di commettere un errore già fatto pochi anni addietro perché sono stati già investiti molti soldi per la riqualificazione della galleria e a distanza di pochi anni la galleria è in uno stato fatiscente e all'interno ci sono degli impianti di umidificazione e condizionamento che molto probabilmente non sono entrati mai in funzione per cui vi lascio immaginare lo stato di degrado dei reperti nelle quali si possano trovare oggi le condizioni in cui si possano trovare oggi per cui noi siamo sì a una riqualificazione ma nemmeno per reperti molto importanti no a un'eventuale musealizzazione o di percorso di esposizione all'interno della galleria chiaramente la nostra azione è che contiamo di unirci e di condividere scelte, programmi, forze e proposte per indirizzare una spesa ottimale di queste risorse proponendo di non allontanarci dall'obiettivo del punto focale che è il Museo Nazionale Archeologico e non un elemento complementare che come dice la parola stessa è di completamento grazie a tutti